Nel classico Racing Podcast del martedì parliamo di quello che è successo in MotoGP e nelle categorie generali del Moto Mondiale primo dei due appuntamenti in Austria sul Red Bull Ring per riprendere il campionato dei prototipi a due ruote dopo la lunga pausa estiva di un mese e mezzo parleremo prima della MotoGP poi ovviamente di Moto2 e Moto3 come il solito nei Racing Podcast delle tre categorie che hanno corsi in Austria va detto che la MotoGP è stata quella meno spettacolare dal punto di vista della gara in sé che vede comunque un vincitore a sorpresa e ne riparleremo è stata comunque sicuramente la più spettacolare nel senso più negativo del termine visto il pauroso e drammatico incidente che c'è stato nelle prime fasi della gara al di fatto secondo giro quando alla curva 3 la curva in salita appunto che dà verso uno dei lunghi rettrini del circuito di Spielberg Daniel Pedrosa e Lorenzo Salvadori di fatto vanno a contatto in una dinamica veramente tanto particolare Pedrosa di fatto perde la moto del suo rimane la moto in mezzo alla pista Salvadori che era in quel momento nelle retrovie ha potuto far niente per evitare la moto dello spagnolo e dunque moto a fuoco peraltro gravi conseguenze per Lorenzo Salvadori operato operato nella mia città in tempi recentissimi per Salvadori non ci sarà la possibilità di correre il Gran Premio successivo che si tornerà sempre in Austria in Stiria Pedrosa invece ha avuto la meglio visto che comunque la sua è stata una grotta senza conseguenze tanta paura tanto spavento ovviamente bandiera rossa per via della condizione della pista e per ripulire ovviamente questo pauroso incidente è un buongiorno di conseguenza per ricordare quanto secondo me per le moto questo circuito sia oltremodo pericoloso e non è la prima volta che succede perché anche l'anno scorso a memoria ci sono stati degli interventi abbastanza problematici per usare un eufemismo e mi riferisco a quello che combinò Zarco nella circostanza di Morbidelli in quel sorpasso avventuroso sempre in questa curva spesso quando queste moto di queste cilindrate evidentemente combinano quello che combinano e spesso sono anche delle cadute protagoniste per la conformazione del circuito spesso si trovano delle moto in mezzo alla pista e gravissime conseguenze per i piloti Salvadori per esempio ne ha fatto le spese ne fece le spese sempre l'anno scorso Hafiz Yarin che centrò di fatto la moto di Bastaini rimasta in mezzo alla pista sono episodi ripetuti nel corso di diversi anni che dal mio punto di vista dovrebbero far riflettere su un impiego diverso secondo me del circuito austrico quantomeno in MotoGP è un discorso diverso invece per le Formula 1 ma per le moto secondo me è un circuito che non dico andrebbe tolto ma quantomeno dovrebbe essere reso molto più sicuro di quanto già non lo sia e questi esempi di incidenti ne sono veramente la prova detto questo ripreso appunto il team delle competizioni si è svolta effettivamente una gara una gara sorprendente non per la spettacolarità perché poi il sorpasso decisivo è arrivato direttamente nei primi giri di gara c'è però la prima vittoria della carriera in MotoGP per Jorge Martin su Ducati Prama che la sua è sicuramente una storia molto bella perché già era un rookie uno dei rookie più titolati per Palmares quest'anno in MotoGP un pilota che aveva già sorpreso per la sua grande adattabilità alla Ducati Prama che ricordo essere una moto semi ufficiale e comunque nonostante questo Martin era stato oltremodo sfortunato perché si è infortunato alla terza gara in Portogallo ha saltato tre gare consecutive Francia, Spagna e Italia è tornato di fatto tra Germania e Assen e c'entra la vittoria insperata e la vittoria della vita mi verrebbe da dire in MotoGP appunto in questa gara di Austriaca avendo la ragione del campione del mondo in carico ovvero Juan Mir e anche di Fabio Quartarò su Yamaha ufficiale dunque per Jorge Martin tantissima soddisfazione vittoria oltremodo sorprendente e per lui suona la marcia reale il lino nazionale spagnolo è appunto doppietta spagnola perché si risveglia il campione del mondo in carico Juan Mir che peraltro fa il secondo podio consecutivo in un campionato che ormai lo vede protagonista ormai come pilota costante nelle prime posizioni al netto che secondo me sembra tagliato fuori un po' dalla corsa al titolo del mondo è terzo invece il leader attuale della classifica del campionato ovvero Fabio Quartarò che ancora una volta si dimostra una Yamaha competitiva a differenza delle altre che si sono presentate ai nostri di partenza qui al Red Bull Ring con questa vittoria va detto che Quartarò allunga sul connazionale Johan Zarco appunto sono 40 i punti di distacco e non dico il mondiale è già chiuso va detto che comunque sono distacchi comunque ragguardevoli e lo ritroveremo sicuramente nelle categorie successive perché anche in Moto2 e in Moto3 evidentemente il distacco è di questo tipo è stata una gara che ripeto per la MotoGP non ha offerto tantissimo se non appunto la spettacolarità nel senso negativo del termine dell'incidente tra Salvadori e Pedrosa anche delle manovre di Marquez su Elesch e Spargarò tant'è vero che l'Apriglia ha fatto anche ricorso alla partenza avventurosa anche quella di Marc Marquez dove di fatto sembrava che corresse soltanto lui in pista infatti e Spargarò l'abbiamo visto molto molto provato tra una ripartenza e l'altra al momento l'esito del ricorso a Priglia non ha dato ovviamente i frutti sperati vedremo se la trattativa andrà avanti gli altri piazzamenti per quanto riguarda la MotoGP Brad Binder fa una signora gara e da sedicesimo rimonta a quarto nel circuito di casa di fatto per la KTM ufficiali oggi Brad Binder molto molto meglio di Miguel Oliveira che comunque si è ritirato quinta posizione per una delle poche onde rimaste competitive ovvero il solito Takahaki Nakagami che al netto della vittoria di Marc Marquez in Germania è l'unica onda realmente competitiva sesta posizione appunto per il già citato Johan Zarco sulla Ducati Pramac settima posizione per Alex Rins su Suzuki leggera salita per il moto spagnolo rispetto ai pochi punti raccolti nelle gare precedenti ottava posizione nella gara dell'Austria sempre per Marc Marquez che ricordiamo corre non al 100% della condizione fisica non ha posizione per il fratello Alex Marquez che per lui a differenza di Marc non opposto è un ottimo risultato considerato la moto su cui corre e anche le qualità del pilota che francamente non sono eccezionali chiude la top 10 sempre per quanto riguarda la gara di Austria Daniel Pedrosa che è riuscito comunque a ripartire e ha portato a casa secondo me un risultato straordinario per le sue capacità un pilota che è rientrato di fatto alle corse pur come wildcard qui in Austria dopo tre anni di stop ha portato quasi la KTM ufficiale la terza KTM ufficiale in Q2 gli è sfuggita la qualificazione per un'inezia vero è coinvolto in un incidente con Salvadori ma non è ovviamente colpa di Pedrosa né di Lorenzo è di fatto un incidente di gara seppur molto molto brutto riesce comunque a ripartire immagino con la moto di riserva e riesce a piazzare la KTM in top 10 risultato straordinario per ricordo uno che si era ritirato nel 2018 Pedrosa è stato un pilota di fatto sfortunatissimo molto talentuoso avrebbe anche meritato di vincere di più purtroppo il suo palmarès di titoli del mondo si ferma a 3 325 e 250 in MotoGP dal mio punto di vista un titolo del mondo l'avrebbe anche meritato per varie circostanze purtroppo non gli è capitato tra l'avere in squadra Mark Marquez e una sensibilità agli infortuni veramente incredibile ma comunque per questo bel ritorno perché quello di Pedrosa per me è un bel ritorno lo spagnolo si prende il premio di rider del giorno in seconda posizione in questa classifica avrà rimesso Brett Binder per la rimonta fatta la 16esima quarto ma Pedrosa per me è il rider del giorno del gran premio di domenica senza se e senza ma la delusione del giorno va detto però è la Ducati ufficiale che da tifoso mi dà una delusione grossa perché sia Jack Miller che Bagnaia sono veramente terminati after the music Miller non ne parliamo si è pure ritirato la vera delusione è proprio Bagnaia perché non capitalizza una prima fila straordinaria in un circuito dove la Ducati ufficiale specialmente ha sempre fatto quello che voleva vero vince Ducati di nuovo ma è la Ducati clienti e per la Ducati ufficiale essere battuta da Ducati clienti è evidentemente uno smacco Bagnaia poi è protagonista della gara del gambero dell'anno perché da seconda undicesimo neanche il miglior Vignales riesce a cavarsela in questa circostanza e dunque mi dispiace ma Bagnaia si becca la mia delusione del giorno appunto vediamo adesso gli altri piazzamenti degli altri italiani che sono di fatto tutti più o meno vicini e Bagnaia abbiamo detto undicesimo dodicesimo il best di Rimini Enea Bastellini che fa una gara purtroppo in colore tredicesimo Valentino Rossi che di fatto corre la prima gara ufficiale dopo l'annuncio del ritiro e di fatto rimane in linea con le aspettative quindi se va bene punti basse di classifica l'ultimo italiano a punti è Luca Marini che appunto finisce dietro al fratellastro quattro dicesima posizione per colui che è il compagno di squadra di Enea Bastellini di cui si parla molto di più di Enea ma questo è un altro discorso per altri motivi di Savadori abbiamo detto che appunto non partirà nel Gran Premio successivo di Austria e mi auguro di rivederlo presto in Gran Bretagna Savadori peraltro per le sue potenzialità sta facendo una stagione comunque discreta con la seconda delle Aprilia ultimo italiano in classifica Tadelo Petrucci diciottesimo ancora una volta gara anonima per il pilota Umbro si parla a gran voce adesso che è andato via da KTM in modo ufficiale di Superbike l'anno prossimo con Ducati probabilmente è un contesto a lui più favorevole una MotoGP di questo tipo probabilmente per Petrucci ha poche chance ennesima gara in colore su una KTM clienti che in realtà anche oggi ha fatto fatica anche Iker Lecuone il compagno di Fada di Petrucci è finito ai margini della zona punti e infatti entrambi non verranno riconfermati sulla MotoGP del team KTM Tech 3 ci saranno Remy Garner e Raul Fernandez che sono di fatto i due contender principali del Mondiale Moto2 che però non vede la vittoria né di Garner né di Fernandez ma vede la vittoria di Marco Bezzecchi che torna al successo sempre in Austria visto che l'ultima affermazione del pilota italiano è stata appunto in Austria l'anno scorso dunque torna a vincere lo Sky Racing Team VR46 in una gara peraltro molto bella perché è stata una lotta veramente sudata appunto tra Garner e Bezzecchi in particolare poi Garner in realtà a 6 giri dalla fine la butta via perché nel tentativo di superare Bezzecchi che aveva fatto un sorpasso molto interessante sempre in curva 3 Garner prova a replicare in curva 4 Garner però sbaglia il punto di frenata evita Bezzecchi e per evitarlo finisce per campi tanto è vero che Garner finirà in quarta posizione il podio lo completano Aaron Kanett che si dimostra per distacco il migliore delle Bosco Scuro e terza posizione per Augusto Fernandez Guerra che è il Fernandez meno talentuoso diciamo rispetto a Raul ma anche lui è tutto forché un brutto pilota e infatti i risultati lo dimostrano 3 top 5 nelle ultime 4 gare peccato per Fernandez pagare una certa incostanza per Marco Bezzecchi è appunto la prima vittoria stagionale a fronte di 4 podi complessivi anzi 5 compreso la vittoria e per lui suona il canto degli italiani il nostro ino nazionale non sono d'accordo però tuttavia con chi dice che il titolo del mondo si è riaperto per Bezzecchi perché come dicevamo per la MotoGP anche in Moto2 effettivamente il titolo del mondo sembra più una lotta tra i due KTM e Aio matematicamente Bezzecchi ancora in corso ci mancherebbe altro ma non ha la costanza di Remy Garner che comunque pur buttando la via fa un quarto posto e in un mondiale di questo tipo dove te la devi lottare con piloti altrettanto costanti come te vedi per esempio Fernandez e Bezzecchi per Garner è grasso che cola arrivare quarto e di fatto limitare i danni anche se in questo caso dal mio punto di vista Garner di fatto la butta via gli altri italiani finisce a punti Selezino Vietico un ottimo sesto posto miglior gara per la stagione del secondo pilota Sky Resinti in via R46 veramente per dispersione tutti gli altri italiani purtroppo non avranno modo di esaltarsi più di tanto la maggioranza dei quali finisce after the music fuori dai punti si salva Lorenzo dalla porta che comunque sta migliorando il suo apprendistato in Moto2 la sua seconda stagione certo è un miglioramento significativo rispetto allo scorso anno ma c'è ancora tanto da fare per arrivare lassù dove più conta ovvero al giocarsi il titolo del mondo un po' come ha fatto a Sprazzi Fabio di Gian Antonio terza italiana in zona punti che finisce tredicesimo è comunque un buongiorno per dire che tolta qualche eccezione bezzecchi di Gian Antonio per l'altro Gian Antonio andrà in MotoGP l'anno prossimo la scuola italiana sta un attimo latitando e dovrà probabilmente aspettare un po' per rivedere i campioni del mondo delle categorie intermedie per esempio quei bagnai e morbidelli che dominarono i mondiali di Moto2 c'è speranza in Vieti c'è speranza per Arbolino certo che Arbolino sta rendendo leggermente meno rispetto alle aspettative della vigilia va detto che il passaggio da Moto3 a Moto2 è sempre tanto tanto complicato così come in realtà non sembra essere complicato vincere per il ragazzo terribile della Moto3 Pedro Acosta che si inventa un altro modo per vincerla a sto giro dopo un duello clamoroso con Sergio Garcia e lo spagnolo di casa KTM Red Bull Ayo riesce ad avere la meglio sul suo diretto contender per il titolo del mondo Moto3 e per lui suona ancora una volta la marcia reale è stato un duello veramente bellissimo durato per 20 passagiri dove Garcia ha provato a stare in testa fino alla fine alla fine negli ultimi due giri Acosta ha provato ad avere la meglio di Garcia e c'è anche riuscito peraltro il miracolo vero lo fa proprio Garcia che appunto spinto dal attacco di Acosta dalla voglia di rimontarlo immediatamente cade alla penultima curva Dio grazie la sua moto gli rimane accesa riesce a ripartire riesce comunque a tagliare il traguardo in seconda posizione complice il fatto che vista una gara bagnata e umida appunto Garcia e Acosta hanno dato un'eternità agli avversari tant'è vero che Garcia ha avuto il tempo di prendere la moto rialzarsi e tagliare il traguardo per secondo davanti a un ottimo Romano Fenati che ha avuto la meglio in volata di Raume Masia stampato in volata e comunque è un altro podio per Romano Fenati su Squarna il terzo o meglio il secondo consecutivo secondo terzo posto consecutivo per Acosta dunque l'ennesima vittoria in stagione sono cinque con la vittoria del Gran Vemmo di Stiria e ancora una volta si allunga sempre di più il distacco tra i due contendori del Mondiale Motore perché Acosta ha addirittura 53 punti di vantaggio su Garcia non dico Mondiale chiuso ma siamo veramente a un passo è ancora un buongiorno per dire che Moto2 e Moto3 appunto non hanno un livello così eccelso come magari altri campionati motoristici e nella prova appunto del distacco che appunto qui Acosta e Garcia hanno fatto quello che voleva e Acosta ancora una volta ha dato l'impressione sempre di averne un po' di più e infatti il momento decisivo ha attaccato gli altri italiani appunto abbiamo detto Fenati terzo gli altri italiani purtroppo non hanno fatto prestazioni pazzesche è addirittura se non sbaglio Fenati l'unico italiano a punti per via un po' delle varie defezioni che ci sono state Antonelli non è neanche partito non c'erano poi anche altri italiani che hanno fatto scelte diverse è appunto un'affermazione ancora più concreta quella che dicevo sulla Moto2 a maggior ragione si va a riflettere sulla Moto3 il talento in Moto3 latita veramente tanto e quindi anche lì ci sarà bisogno di una nuova classe entrante che dovrà venire dai campionati successivi è comunque il Mondiale Moto3 interessante da vedere perché da sempre delle gare molto interessanti certo molto spesso vince Pedro Acosta ma comunque è il talento più grande di questa Moto3 e sembra veramente un veterano in confronto anche ad altri veterani che sono già presenti in questa classe entrante di motociclismo tutte queste categorie con raggiunta la MotoE torneranno addirittura questa settimana a Ferragosto si chiuderà questo doppio appuntamento Stiria e Austria per il Campionismo d'Austria ci sarà l'appuntamento a Ferragosto 4 categorie in campo e dunque ci sarà modo anche di parlarne nel Racing Podcast dedicato che uscirà lo stesso giorno alle 19 e vedremo se ci saranno altre gare spettacolari soprattutto nelle categorie Moto2 e Moto3 e speriamo che la MotoGP possa regalarci una gara ancora più bella rispetto a quella che è stata una gara di MotoGP in Stiria non probabilmente bellissima ma c'è tempo ovviamente per rifarsi fatevi vedere cosa ne pensate ovviamente di questo Racing Podcast se vi è piaciuto iscrivetevi nel caso condividete il video ai vostri amici e saluto alla parte di MotoTorGuard ci vediamo al prossimo video